Zanna Bianca racconta la vita vista attraverso gli occhi di un lupo Ciao e benvenuti in questa nuova recensione dei topi di biblioteca Ho cominciato ultimamente a leggere un pochino di più e siamo al primo libro per quest'anno ovvero appunto Zanna Bianca di Jack London Vi ricordo che qua sotto in descrizione vi lascio tutti i link Amazon per poterlo acquistare sia in formato ebook che in formato cartaceo e direi di partire con la nostra recensione Siamo nel nord più freddo e ostile tra l'Alaska e il Canada un luogo caratterizzato da una natura selvaggia e avversa è in questo contesto che nasce Zanna Bianca, metà cane e metà lupo più o meno come Balto anche se in questo caso la sua indole prevalente è fin da subito quella più feroce quindi quella del lupo Nel corso del libro il lupacchiotto crescerà incontrando gli esseri umani che nel libro vengono detti uomini dei o dei uomini Grazie all'uomo conoscerà poi sulla propria pelle quello che è il vero odio che non guarda in faccia a nessuno ma avrà anche l'occasione di conoscere gli aspetti migliori della vita Zanna Bianca affronterà quindi un viaggio di trasformazione che lo porterà dal gelido nord al caldo sud il suo sarà anche un viaggio di crescita e ricerca personale che accompagnerà anche chi legge in un percorso che lo porterà ad osservare il mondo proprio attraverso gli occhi del lupo scelta che io ho trovato veramente molto interessante il libro Zanna Bianca insegna che si deve essere sempre tenaci, ambiziosi e che bisogna combattere sempre fino alla fine è un titolo che secondo me è imperdibile da leggere da ragazzi e da rileggere anche da adulti per coglierne tutte le sfumature ragazzi spero che questa recensione vi sia stata utile nel caso lasciate un bel like se non siete iscritti vi ricordo di iscrivervi al canale attivando anche la campanella in modo da essere sempre aggiornati sulle nuove pubblicazioni che ci sono sul canale se avete letto il libro e volete dirmi cosa ne pensate se l'avete trovato interessante o meno potete farlo con un commento qui sotto sempre qui sotto in descrizione oltre ai social vi ricordo che c'è il link a amazon per acquistare il libro io vi do appuntamento al prossimo video have a nice life ciao 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 ciao